Oggi è uscita l'ANSA che la Procura della Repubblica di Messina ha chiesto l'autorizzazione a procedere al Ministro di Grazia e Giustizia per quanto riguarda il mio reato di vilipendio e di conseguenza la Procura giustamente chiede al Ministro se deve procedere o non procedere. Io ho risposto già perché c'è un'ANSA e ho pregato il Ministro di concedere senza indugio l'autorizzazione. Io voglio essere processato per quello che è stato il mio reato di lesa maestà dei confronti del Ministero degli Interni. Io voglio essere portato in un tribunale per portare quelle che sono le carte che per quanto mi riguarda rasentano il crimine di Stato e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Quindi fate sapere al Ministro a Guardasugilli che deve immediatamente dare l'autorizzazione alla Procura per avviare il processo nei confronti del Sindaco De Luca. L'ho detto già ufficialmente con un comunicato e così deve essere. È proprio di quella che è la genesi di questo processo.